Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova video guida per il canale YouTube di Marcosbox. Siamo nuovamente su Ubuntu 23.10, come potete vedere dal bellissimo wallpaper di default di questa nuova versione di Ubuntu, per rispondere a una domanda che mi è stata posta da alcuni lettori in concoptenza con il rilascio di Ubuntu 23.10. Nel frattempo magari mettiamo a schermo intero, così evitiamo di far vedere sotto KDE, così non vi affezionate troppo al miglior desktop environment che ci sia. Mi è stata posta una domanda, una domanda che molti utenti alle prime armi si trovano a dover affrontare non appena installato una nuova versione di Ubuntu. e riguarda l'installazione dei pacchetti in formato DEB, come ad esempio, guarda caso, nell'esempio che sto per farvi vedere, ho il pacchetto DEB di Google Chrome. Qual è il problema? Il problema è che sulle ultime versioni di Ubuntu non troviamo pre-installato nessun tool, perché ci consente l'installazione rapida e immediata dei pacchetti in formato DEB. Se noi andiamo infatti a fare doppio clic su un pacchetto in formato DEB, ci viene fuori di default questo messaggio impossibile di visualizzare il nome del pacchetto, in questo caso Google Chrome. Non risulta installata alcuna applicazione per rifare il pacchetto DEB. Andando infatti poi a scegliere Selezioni Applicazione, vedete, non ci trova niente per poter installare i pacchetti in formato DEB. Se andiamo a fare VisualizzaTutti, non troviamo nulla di utile. E' una grave mancanza, mi avviso, di Ubuntu, perché altre distribuzioni basate su Ubuntu hanno messo una pezza da diverso tempo. Alcune adottando vecchie soluzioni, come quella dell'installazione di GDB, altre con tool sviluppati in casa per l'installazione dei pacchetti in formato DEB, come ad esempio PopOS. Il tool che utilizzo per installare i pacchetti DEB, PopOS, è derivato da un'applicazione che era inizialmente presente su ElementarOS, che si vede appunto per l'installazione dei pacchetti in formato DEB. Poi, se non ricordo male, su ElementarOS hanno deciso di abbandonarla, l'applicazione in questione si chiama Eddy, e quelli di PopOS hanno continuato a mantenere nei propri repository e a pre-installarla. E' una saggia scelta. Eddy, a mio avviso, è uno dei migliori front-head per l'installazione dei pacchetti in formato DEB. Ma, aperta e chilo parentesi, torniamo a Ubuntu. Vi dicevo, Ubuntu non ha pre-installato nessuna applicazione per installare i pacchetti in formato DEB. Quindi, come fare? Ebbè, la soluzione semplicissima è quella di installare GDB. Vorrendo possiamo anche installarlo a mano, il pacchetto, mediante il terminale, ma siccome non vogliamo utilizzare sempre il terminale, lo utilizziamo una sola volta e ci installiamo il nostro bel pacchetto e ci installiamo, in questo caso, GDB, che ci servirà appunto per installare tutti i pacchetti in formato DEB successivamente. Installiamo GDB, installo un casino di pacchetti, il comando da dare, sudo apt installo GDB. Installiamoci il GDB. Aspettiamo nel frattempo che scarica tutto quello che gli serve per poter far funzionare GDB. Io perché preferisco installare GDB? Perché mi trovo più comodo fare doppio clic rapido sui pacchetti in formato DEB a installare. GDB, fra l'altro, è utile perché in passato si poteva fare anche tramite il software center, l'installazione dei pacchetti in formato DEB, però mi ritrovavo sempre con alcune dipendenze non risolte con alcune applicazioni di terze parti e quindi di conseguenza ho iniziato a utilizzare GDB perché so che GDB risolve tutte le dipendenze senza problemi e quindi mi evita di andare a... insomma, a trovarmi con un pacchetto moncombre, un pacchetto che non riesco a installare correttamente. Caci pieterina, quanta roba che sta schifando... Eh, giustamente, io faccio sempre questi video all'ora tarda, quando la connessione T-Sky fa schifo. Mischiato con i server di Ubuntu, quelli che attualmente, vedete la velocità, proprio la velocità della luce, ci sta mettendo a scaricare. Nel frattempo, che faccio? Vi racconto una bazzaghetta, no? Anzi, vi aggiorno nel frattempo sulla situazione di... ne approfitto, vi faccio vedere una cosa. sulla situazione di Ubuntu. Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con una notizia riguardante... riguardante... dove stava, dove stava, dove stava... Canonica che ritirava le ISO di Ubuntu 23.10 per via di alcune traduzioni che incitavano all'odio e soltanto nella giornata del 16 ottobre, nella giornata di ieri, hanno reso nuovamente disponibile disponibili... chiudiamo sta pubblicità... hanno reso nuovamente disponibili le immagini aggiornate di Ubuntu 23.10 che vanno a correggere questo... questo incidente di percorso, chiamiamolo così. Che è praticamente questo problema che si era verificato nell'Instagram che era delle traduzioni compromesse. Ci hanno messo un cassino di tempo per aggiornare le ISO. Ah, e magari dopo vi faccio anche un video che vi faccio vedere una funzionalità dell'ISO di Ubuntu 23.10 del nuovo installer, è meglio, è presente su Ubuntu 23.10 e il nuovo installer è capace di aggiornarsi durante l'esecuzione e al primo avvio che vi fa... in questo caso, se vi trovate una vecchia ISO, la prima ISO, quella di Ubuntu, quella contenente questo bug, questo problema, come lo volete chiamare voi, questo bug non voluto, nell'Instagram, con le traduzioni volutamente offensive, e dicevo, se vi trovate con la vecchia ISO andate ad installare adesso Ubuntu con quella vecchia ISO, durante la fase di setup, l'Instagram riconoscerà che c'è una nuova versione dell'Instagram stesso e si aggiornerà per risolvere il problema. Ed è una cosa carina. Vabbè, torniamo a noi, torniamo all'installazione dei pacchetti di abattimenti, facciamo un video lunghissimo e poi la gente si annoia, abbandona la visualizzazione. Dicevo, adesso abbiamo installato il nostro bel applicativo GDB. Adesso non dobbiamo fare altro che cliccare... come vedete, automaticamente ci riconosce GDB. Qualora non l'avesse fatto, sarebbe bastato fare Apricon con il tasto destro e selezionare l'installatore del pacchetto GDB. Adesso, come potete vedere, il nostro GDB si avvierà e ci consentirà l'installazione del nostro pacchetto DEB con il doppio clic. Semplice, immediato e indolore. Quindi, ricapitolando, per poter installare facilmente i pacchetti DEB con il doppio clic su Ubuntu 23.10 vi basterà installare da terminale GDB. Una volta installato, vi ritroverete automaticamente l'associazione Fario per poter installare i pacchetti mediante GDB e vivere felici. Spero di aver aiutato molti di voi all'ascolto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo, ci rivediamo in un prossimo video su questo canale YouTube o ci riascoltiamo sul podcast o ci, anzi, o mi leggerete sui prossimi articoli che pubblicherò sul blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao.